ma la stessa è fatica ma la mia grandita è fatta cosa chiamola? guarda 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 come inizia questa pia e sarà la meno meno rispetto ai tuoi figli vediamo in te no no figli ero vabbè anche' un velo anchei due non vorrei ancora guarda stia stia miler foglio far Anya speriment sei ma